eh buonasera a tutti io sono Anna Manzone funzionario restauratore della della reggia di Caserta ehm e sono qui ehm con con il mio collega Gennaro Tortino eh funzionario restauratore anche lui eh per eh parlarvi del 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 programma di cura ehm e manutenzione programmata che stiamo che stiamo mettendo in atto eh nello nello specifico eh questo programma ehm mh ha previsto eh l'utilizzo della camera di disinfestazione tramite tecnologia ad Anossia eh che è in questo che in questo workshop vi spiegheremo bene come come funziona. Eh le collezioni della reggia di Caserta sono veramente tantissime eh contengono eh tanti ehm mh mh tanti materiali eh scusate eh di ehm mh appunto di eh eh di eh di diverso materiale che ehm che interagiscono fra di loro eh e che quindi questo può eh portare dei eh fattori di degrado eh veramente eh diversi eh uno dei eh fattori di degrado che si riscontra più spesso è eh quello di natura eh ento eh entomologica quindi quello causato da eh insetti xilofagi che eh si nutrono del eh materiale interno eh al legno o alla carta per eh appunto eh ripro eh riprodursi e ehm ed espandersi anche eh nelle altre collezioni. In queste in queste immagini appunto vedete a titolo d'esempio eh alcune eh delle nostre collezioni della della collezione permanente ma eh bisogna ricordare che alla reggia ci sono moltissimi depositi che eh contengono eh tanti materiali appunto diversi. Eh noi per eh cominciare questo lavoro abbiamo appunto eh deciso di eh cominciare da un deposito in particolare che contiene degli degli arredi eh quindi molte molte sedute eh che negli anni sono state appunto conservate lì dentro eh ma eh spesso eh non sono state ehm eh soggetto di ehm appunto eh restauro e di e di intervento. Eh infatti appunto in questo slide potete vedere la differenza che c'è fra un deposito che si sta organizzando e appunto la collezione eh che è appunto visitabile al pubblico. Eh come vedete molti arredi eh sono in uno stato conservativo precario eh mancano alcune parti eh sono appunto lesionati ma eh la cosa più grave è questo attacco biologico eh di tarli con le otteri che è appunto si è innescato nel tempo e che non eh sapevamo come fermare perché come ben sapete questi tarli eh vanno un po' ovunque ehm quindi eh essendo appunto un museo così vasto eh avendo questa eh problematica eh abbiamo eh deciso di eh fornirci di un sistema totalmente autonomo che è appunto la camera ad Anossia eh che ora appunto vedremo per eh aiutarci in questo eh ciclo di eh conservazione programmata questa è una foto eh che poi meglio ehm vi illustrerà eh Gennaro eh allora perché l'atmosfera controllata? Eh finora i restauratori si sono serviti di ehm eh di materiali che sono eh spesso eh tossiconoscivi per l'operatore e per l'opera. Eh l'atmosfera controllata è una una naturale eh alternativa a questi a questi metodi eh che permette di eh uccidere eh l'animale in qualsiasi eh forma esso sia quindi anche uovo larva e poi anche adulto e eh permette di non lasciare eh alcun tipo di residuo eh nel materiale trattato perché appunto spesso eh sappiamo che sono materiali molto delicati ehm che non ehm con cui non si può appunto scherzare. Eh inoltre ehm mh il restauratore deve soltanto eh impostare i livelli di eh ossigeno, azoto e eh umidità relativa all'interno della camera eh e poi appunto il il sistema fa fa tutto da solo. Adesso passo la parola a Gennaro. Eh buonasera a tutti. Allora eh continuando il discorso di Anna, perché atmosfera controllata? Eh abbiamo deciso comunque di acquistare un sistema ad atmosfera controllata e non modificata proprio per le necessità che le collezioni della legge di Caserta eh presentano. Eh la scelta è stata drastica, cioè abbiamo scelto comunque di acquistare un sistema che fosse il meglio sul mercato. Uno perché avesse comunque un impatto ambientale ed ecosostenibile anche in linea con gli obiettivi dell'agenda venti e trenta. Avesse anche comunque un impatto eh minimo sulle opere da trattare per il trattamento di disinfestazione e ovviamente eh ci permette di essere autonomi in questo tipo di interventi ma allo stesso tempo come vedremo poi come vi riparterà poi dopo Anna anche di poter eh offrire all'utenza operatori economici ma anche privati cittadini la possibilità di di poter usufruire di questo tipo di eh eh attrezzature eh eh attraverso delle concessioni. Andiamo adesso nello specifico a vedere come funziona il sistema d'atmosfera eh controllata. Però non va avanti. Ah ok perfetto era era al contrario. Ok un attimo solo. allora se torno un attimo indietro. Ok il primo ciclo eh il primo ciclo eh diciamo che il il programma di disinfestazione rientra all'interno di un all'interno di un programma molto più ampio di manutenzione programmata che stiamo svolgendo al museo e che eh nell'anno duemilaventuno e nell'ultima parte del duemilaventi ha riguardato principalmente i depositi. Eh stiamo eh controllando e inventariando tutte le collezioni del museo presenti nei depositi e allo stesso tempo in maniera contestuale viene effettuata anche una valutazione del danno. Eh per eh su molte opere è stata poi riscontrata la presenza comunque di infestazioni da insetti xilofagi e eh per questo primo ciclo ci siamo concentrati principalmente su eh dei beni mobili su dei degli arredi e principalmente su delle sedute proprio perché eh proprio sulle sedute si sta eh portando avanti una campagna di digitalizzazione attraverso ehm eh gli uffici che si occupano dei depositi tra cui proprio la collega Anna eh che non soltanto va a individuare i beni che hanno maggiormente necessità di un intervento di restauro di un intervento di disinfezione ma eh che ci permettono anche di avere contezza eh delle collezioni all'interno dei depositi. Entrando nello specifico dell'intervento di disinfestazione preliminarmente abbiamo eh effettuato un intervento di spolveratura con uno un aspiratore Munz Museum ad aspirazione controllata e allo stesso tempo abbiamo creato un database che riporta tutta una serie di informazioni sulle nostre collezioni eh legate al loro stato di conservazione come vi dicevo alla origine eh dei pezzi e eh e altre informazioni di tipo storico ed artistico legate agli altri beni della collezione esposti nelle aree diciamo espositive fribili dal pubblico eh perché una camera ad atmosfera controllata innanzitutto che differenza c'è tra atmosfera controllata e atmosfera modificata e lo dice già di per sé eh il termine controllata vuol dire che noi possiamo controllare quello che avviene all'interno eh della camera e allo stesso tempo mantenere costanti i parametri di anossia dell' atmosfera all'interno della stessa eh nel nostro primo ciclo noi abbiamo impostato la camera con un per la creazione di un'atmosfera all'interno del della nostra struttura che è una camera di circa 12 metri cubi a tenuta stagna una volta inseriti gli oggetti all'interno della camera eh non è possibile che vi sia un passaggio d'aria dall'esterno all'interno e viceversa eh il primo ciclo è stato avviato con una temperatura anossica o un'atmosfera anossica al 99,8% minimo di azoto e un'umidità relativa compresa tra il 45 e il 55 per cento eh gli oggetti vengono inseriti all'interno della della bolla la chiamiamo così eh comunemente e eh insieme agli oggetti nella bolla vi è un sistema di ventilazione che permette un ricircolo maggiore dell'aria e una sonda igrometrica che ne monitora eh i livelli igrometrici quindi gli sbalzi di UR e eh ovviamente la sonda qualora dovesse eh eh rilevare degli abbassamenti della dell'umidità relativa il sistema entra in funzione. Come funziona il sistema? È basato semplicemente su quattro elementi principali. Il primo è un compressore, un aspiratore d'aria che non fa altro che aspirare aria dall'esterno e eh inviarla ad un separatore molecolare che separa praticamente l'azoto dall'ossigeno e dagli altri gas presenti nell'atmosfera esterna. L'azoto viene a sua volta inviato ad un sistema di analisi che ne individua la purezza e poi dopo lo immetti all'interno della camera. Il sistema di analisi analizza due volte l'azoto uno in entrata e poi anche in uscita questo per eh individuare sempre un livello di per certificare il livello di purezza all'interno della camera e rimettere il moto in sistema qualora questo livello di purezza dovesse scendere sotto il range che noi abbiamo impostato all'inizio. I livelli le le soglie di purezza vengono preimpostate. Diciamo che un'atmosfera modificata al 99,5 per cento di azoto uccide tutte le forme di insetti in tutti i stati come vi ha detto prima Anna eh adulto eh larva uova e eh quindi un sistema molto efficace e qui eh una una slide esemplificativa eh il primo livello indica praticamente ehm lo 0,1 di ossigeno cioè quindi vuol dire che nella camera vi sono vi è vi era durante il ciclo il 99,9 per cento di azoto. Cosa importante viene indicato anche il livello di ossigeno esterno alla camera eh in questo caso 20.6 questo perché? Perché qualora dovesse scendere sotto il 15 per cento il sistema va in blocco di sicurezza anche per la tutela degli operatori e dei restauratori che si muovono nell'ambiente esterno e ovviamente la temperatura eh e eh l'umidità relativa. La temperatura per noi è costante perché non abbiamo acquistato un essendo comunque un clima molto miti a Caserta un sistema di eh controllo della temperatura anche perché eh non inficia più di tanto sui cicli di disinfestazione. Eh quello che ci interessa controllare principalmente in questi casi è l'UR e soprattutto poi la non sia quindi livello di azoto. Ehm il sistema si presta anche ad altri utilizzi eh quindi possiamo creare anche delle bubble delle dei sacchi eh trasportabile. Essendo un sistema trasportabile possiamo anche creare sacchi per opere eh come ad esempio beni di tipo bibliografico archivistico molto più piccoli nelle dimensioni che magari non si possono spostare perché comunque o eh troppo rovinati o perché magari si rischierebbe di eh come dire rovinare creare un danno ulteriore al bene movimentandolo. Eh l'unico inconveniente del sacco è che non ci permette di controllare l'atmosfera al suo interno ma di modificarla soltanto. Quindi possiamo portarlo ad un sistema ad un livello di anossia del novantanove per cento di azoto novantanove virgola nove però poi dopo non sappiamo cosa accade nel sacco durante i ventuno giorni del ciclo. Il nostro ciclo è durato eh più di ventuno giorni ventidue ventitré giorni dal eh dodici luglio fino al quattro cinque eh di agosto. Quattro agosto per essere precisi e eh sia durante il ciclo che alla fine del ciclo è possibile estrarre i grafici che ci dicono quello che accade durante il trattamento e se ci sono delle variazioni. Questi picchi che vedete sono legati praticamente a un blocco del sistema che è stato legato non tanto a un a quello che abbiamo fatto noi ma a delle elevate temperature che eh si sono state a casetta eh nel mese di luglio. Abbiamo raggiunto quasi cinquanta gradi e il sistema ovviamente va in blocco di sicurezza per evitare che si rompa il compressore se c'è una temperatura troppo elevata però poi dopo si è subito ristabilito e ha ripreso i parametri eh consoni c'è da dire che noi abbiamo monitorato giorno per giorno eh quello che accadeva dentro la camera e dopo i primi due giorni c'è la camera di dodici metri cubi per raggiungere un livello di novantanove punto cinque di azoto e novantanove punto otto ci mette tre giorni circa camera vuota camera vuota a camera piena ci mette anche meno circa dalle quarantotto alle settantadue ore a camera vuota dalle ventiquattro alle quarantotto ore a camera con oggetti all'interno ovviamente più è piena più i tempi di eh per raggiungere un'atmosfera nostica si accorciano e eh diciamo che noi nel nostro ciclo abbiamo comunque mantenuto costante una atmosfera nostica non è mai scesa sotto il novantanove punto cinque anzi sotto il novantanove punto otto perché l'abbiamo controllata se io che hanno tutti i giorni e poi eh le sedute dopo essere state trattate sono state poste in un ambiente di eh isolato con dei depositi puliti qui cedo la parola ad Anna che vi parlerà poi eh di quello che sono i programmi anche futuri grazie sì come diceva Gennaro adesso quest'operazione continuerà in tutti gli altri eh depositi e in tutti gli altri eh materiali anche perché come eh vi spiegavo prima non abbiamo soltanto gli arredi contate che soltanto gli arredi nei depositi sono centottanta sedute eh poi abbiamo un altro deposito con circa mille oggetti fra ceramiche e porcellane e va eh non vado avanti perché se no eh si fa si fa notte e quindi eh praticamente la nostra intenzione è quella di eh sfruttare intanto la eh disinfestazione programmata per fare ordine anche perché eh vi ripeto appunto questi questi depositi eh non erano eh mai stati eh realmente svuotati e anche appunto divisi per eh tipologia eh e quindi poi fare anche una una nuova eh inventariazione è anche in corso questo questo progetto per ora eh e poi una una revisione degli impianti e eh una eh conservazione per eh tipologia materica. eh sì questa slide in realtà è un po' una eh ripetizione appunto verrà ehm usata per tutte le opere è una cosa molto molto importante per per noi restauratori è che appunto ci evita di eh affidare eh all'esterno questa questa fase ma di eh trovarci eh delle opere appunto sane in in buono stato conservativo per poi poter ehm appunto proseguire con con l'intervento di restauro se serve. Eh per riassumere quindi questo questo piano di manutenzione ha previsto un eh censimento di tutti i beni conservati ancora in corso eh tramite questi database che avete visto prima ehm anche ehm poi appunto ehm capire quali beni ehm avevano più bisogno eh in base al loro stato di conservazione è eh molto importante la creazione di un protocollo di utilizzo interno e anche esterno quindi eh a breve verrà pubblicato eh nel sito della Reggia questo eh regolamento eh per eh privati cittadini ehm e anche appunto ditte ehm eccetera o anche altri musei che eh vorranno ehm appunto eh appoggiarsi da noi a Caserta per fare questa 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 prima operazione grazie per l'attenzione se ci sono domande siamo qua eh se poi se potete rimandare il video semplificativo se avete qualche domanda mh chiedete pure sì questo sì quello nostro quello per esterni allora noi siamo partiti da queste schede in Excel grazie anche alla collaborazione di tirocinanti perché come sapete al ministero il personale non è non è tantissimo soprattutto per ora e quindi stiamo strutturando prima un censimento dello stato di conservazione che manca quindi invece di fare una scheda per singolo oggetto eh i punti salienti lo stato conservativo e andare avanti con tutto da lì eh c'era una slide in cui si vedeva proprio una una colonna era camera anossica sì camera anossica no per eh appunto eh mettere di lato fra virgolette tutte le opere già eh disinfestate perché poi in realtà tante opere hanno bisogno di un di un intervento di restauro quindi cominciare da quelle più gravi è il nostro obiettivo ehm poi io penso che tante cose verranno facendo nel senso siamo da circa quattro cinque mesi che lavoriamo su questo progetto e piano piano no 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 soltanto beni organici sì 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 e per il protocollo non so se vuoi aggiungere qualcosa per esterni per gli esterni ovviamente noi un protocollo una bozza di protocollo l'abbiamo già diciamo stilata eh ovviamente stiamo andando un po' più cauti perché dobbiamo stilare comunque un canone di concessione che sia in linea con i prezzi di mercato perché non rischieremmo poi dopo di il cane che si morde la coda fare concorrenza sleare agli operatori economici essendo una pubblica amministrazione non possiamo correre il rischio di fare un errore di questo tipo quindi stiamo valutando bene come farlo anche perché eh è qualche cosa che ci permette di offrire un servizio alla comunità e agli operatori economici e in parte ci permette anche di rifinanziare quello che è stato il costo dell'acquisto del sistema quindi nel tempo eh potremmo anche rifinanziare quella che è stata la spesa investita quindi però credo che per l'anno duemilaventidue il regolamento dovrebbe dovrebbe già essere pronto sicuramente perché comunque siamo a metà ci manca una parte diciamo amministrativo tecnica che va di vista con calma anche con gli altri colleghi che si occupano prettamente di questi aspetti più eh diciamo legati al alla gestione e a alla conoscenza della legge vedo in questi casi se non avete altre domande va grazie dell'attenzione eh un saluto grazie Grazie a tutti.